ciao a tutti e benvenuti al 27esimo episodio del pagellone da 0 a 10 oggi andremo ad analizzare la 27esima giornata di serie A prima di iniziare volevo ricordarvi due cose la prima è quella di seguirci su tutti i social quindi iscrivendovi al canale e lasciando mi piace su youtube mentre su instagram trovate sempre il link in descrizione diciamo che instagram è il luogo dove rimaniamo più attivi seconda cosa vi volevo ricordare che lunedì è uscito il primo episodio di una nuova serie che uscirà per alcune settimane e che andrà anche a occupare lo spazio vuoto visto che tra dopo la prossima giornata ci sarà la pausa nazionale quindi se non vi siete vi siete persi il primo episodio andatelo a recuperare detto questo possiamo iniziare voto zero non a cosmi ma al un po al sistema che gira intorno alla blasfemia nel nostro campionato in questa giornata cosmi è stato squalificato ma diciamo che c'è un sistema un po non congruo in tutte le situazioni per esempio adesso a rigor di memoria mi ricordo cosmi appunto che è stato squalificato che è stato l'ultimo lazari che è stato squalificato mentre in alcuni casi invece di una squalifica il danno detto da una blasfemia è stato pagato semplicemente con una multa come nel caso di w4 quindi magari dal prossimo dalla prossima stagione la lega potrebbe stabilire un'unica pena potrebbe dire quelli che tutti quelli che dicono una blasfemia saranno squalificati una giornata quindi senza eccezioni oppure saranno tutti invece di essere squalificati dovranno tutti pagare una multa che forse è la cosa più giusta secondo noi vedremo se anche con il fatto che il crotone in questa giornata forse è stata una delle prime società a lamentarsi di questa cosa che ok che cosmi ha ammesso che ha bestemmiato ma la squalifica sembra un po troppa vedremo cosa cosa succederà nelle prossime settimane oppure all'inizio della prossima stagione voto 1 alla roma roma che perde 2-0 col parma roma che fa uno dei primi passi falsi in stagione contro il parma roma che ha giocato male tanti errori individuali errori individuali che poi hanno portato ai due gol del parma roma che in questo momento non può permettersi di perdere partite perché è molto attaccata al gruppo che dopo l'inter sta cercando di prendere un posto in in champions league la roma con questa partita esce dalle prime quattro comunque un gruppo molto unito vedremo se riuscirà ad avere qualcosa in più nelle prossime giornate ricordiamo che la roma molto probabilmente insieme al minans vedremo se riuscirà nell'impresa di battere il manchester united sarà l'unica squadra che proseguirà in in una competizione europea quindi questo non è da dimenticare nel percorso che poi la roma farà da qui fino a fine della stagione voto 2 al benevento benevento che perde un 4-1 con la fiorentina benevento che perde uno scontro diretto molto importante benevento che aveva la possibilità di rialzarsi dopo un periodo abbastanza lungo di partite senza vittoria benevento che però scende in campo male dopo il primo tempo la fiorentina era già in vantaggio 3-0 con un benevento che era completamente demoralizzato secondo tempo il benevento entra con un atteggiamento diverso gioca meglio della fiorentina forse merita anche qualcosa più di un gol fatto ma comunque se tu butti una mezza partita nel modo in cui il benevento l'ha buttata nel primo tempo difficile che poi a casa porti a casa dei punti comunque benevento ha ancora la possibilità perché è in una zona in questo momento di salvezza ha la possibilità di rialzarsi ma deve cercarlo di fare il più velocemente possibile perché le squadre dietro stanno iniziando a correre e quindi il benevento per cercare di non essere inserito nel gruppo delle squadre che rischiano di retrocedere deve iniziare a vincere e rialzarsi da questo momento molto tosto. Voto 3 alla Sampdoria che dimostra di essere la solita squadra negli ultimi anni una squadra molto altalenante che non ha un vero e proprio obiettivo nel campionato perché è molto distante dalla zona delle competizioni europee ma è anche molto distante dalla zona retrocessione. Sampdoria che ha perso 3-1 col Bologna quindi è una Sampdoria che ha perso contro una diretta concorrente per le zone di metaclassifica Sampdoria che dimostra i soliti limiti. Qua l'ha sbagliata forse anche Ragneri perché ha tolto Damsgaard nel momento migliore della Sampdoria e magari poteva far qualcosa in più per cercare di recuperare questa partita. Comunque vedremo se anche nel mercato estivo anche se presto per parlarne la Sampdoria è riuscire a fare quel benedetto salto di qualità che da tanti anni tutti i tifosi si aspettano perché comunque è una squadra che non ha mai rischiato di retrocedere tranne all'inizio dell'anno scorso ma poi con Ragneri si è salvata abbastanza facilmente e è una squadra che comunque non è mai stata così tanto vicino negli ultimi anni alle zone delle competizioni europee. Voto 4 allo Spezia Spezia che perde 3 a 1 con l'Atalanta. Spezia che nel primo tempo non aveva giocato neanche così male era 0 a 0 ma poi nel secondo tempo visto la stanchezza che l'Atalanta gli ha fatto mettere sulle gambe giocando facendo girare la palla e lo Spezia ha fatto una partita molto difensiva sono calati i singoli e l'Atalanta ne ha approfittato. Spezia che non deve vincere queste partite ma è uno Spezia che deve cercare di portare a casa punti importanti perché a questo punto del campionato deve cercare di avere qualcosa in più che l'allontana anche lo Spezia dalla zona retrocessione. Voto 5 al Cagliari. Cagliari che perde 3 a 1 con la Juve. Cagliari che un po' come lo Spezia non deve cercare di vincere queste partite ma è un Cagliari che non deve neanche entrare in campo nel modo in cui è entrato contro la Juve dopo 30 minuti 3-0 sotto. Poi dovuto sia al calo della Juve che comunque veniva da una partita molto importante negli ottavi di finale di Champions League col Porto in cui l'ultima partita come tutti sapete è durata 120 minuti sia comunque una mentalità diversa con cui il Cagliari è entrato nel secondo tempo. Hanno risparmiato al Cagliari di prendere parecchi gol. La Juve ha avuto l'occasione di andare sul 4-5-0 alla fine del primo tempo. Non è successo. Cagliari che comunque dovrà cercare di rialzarsi subito perché ha soli due punti dal Torino che comunque ha da recuperare due partite. Voto 6 alla Juve. Juve che vince 3 a 1. Juve che da questo momento visto l'eliminazione in Champions fino alla fine del campionato dovrà cercare di vincerle tutte per recuperare sull'Inter. Vedremo se ci riuscirà. Juve che viene trascinata questa giornata da Cristiano Ronaldo che ripaga parzialmente la sua prestazione nelle due partite col Porto. Juve che supera la Roma quindi sono dei punti importanti soprattutto anche per un posto in Champions League. Cosa che non è così scontata visto comunque il campionato molto competitivo di quest'anno e visto comunque la Juve che più volte quest'anno soprattutto nel giro d'andata ha dimostrato di essere una squadra discontinua. Adesso vedremo se la Juve avrà il passo e la mente per cercare di recuperare più punti possibili sull'Inter e vedremo se l'Inter riuscirà a calare nelle ultime partite riaprendo un campionato dove la Juve non è mai stata messa in discussione per un posto per vincere questo campionato. Voto 7 all'Atalanta. Atalanta che vince 3-1 con lo Spezia. Stesso discorso della Juve. Atalanta che fa quello che deve fare perché deve vincere per cercare di ottenere un posto nuovamente in Champions League. Atalanta che gioca bene il secondo tempo trascinato sempre dal grande Muriel che comunque si dimostra un giocatore importantissimo per la causa nera-azzurra. Atalanta che vincendosi continua a tenere attaccato al gruppo per il posto in Champions. Vedremo se riusciranno a tenerlo visto che adesso sono fuori anche loro dalla Champions League e quindi avranno la massima concentrazione sul campionato e poi ci sarà anche la Coppa Italia. Voto 8 alla Fiorentina. Fiorentina che vince una partita importantissima perché si allontana nuovamente in modo abbastanza sicuro dalla zona retrocessione. vince 4-1 col Benevento. Grande partita di Vlaovic soprattutto uno dei tre gol veramente strepitosi. In due passaggi la Fiorentina è riuscita a segnare. Benevento e Fiorentina che non ha mai rischiato contro il Benevento perché comunque dopo il primo tempo eri già sul 3-0. Fiorentina che quando dimostra di essere una squadra molto giù di morale comunque riesce sempre attraverso la prestazione dei singoli ad uscire dalla situazione complicata in cui negli ultimi anni si sta trovando. Adesso vedremo se la Fiorentina riuscirà a tenere il passo per cercare di portare a casa quei punti importanti per cercare di arrivare alla soglia dei 40 punti che la porterebbero una salvezza oppure se dopo questa buona prestazione che l'ha allontanata parzialmente dalla zona retrocessione tornerà alle prestazioni prima del Benevento quindi delle prestazioni non sufficienti che poi quindi la potrebbero riportare nuovamente attaccata al gruppo della retrocessione. Vedremo. Voto 9 al Bologna, Bologna che vince tra 1 con la Samp, Bologna che in un buon momento di forma, Bologna che fa il suo campionato di metà classifica ma con Mihaljevic la squadra è cresciuta molto, è una squadra molto giovane, ha tantissimi giocatori che sono alle prime stagioni in Serie A, vedi Svamberg che comunque è due o tre stagioni che è in Serie A ma sta diventando un giocatore col tempo molto molto importante per il lavoro che fa in attacco ai tanti giocatori giovani come Barrow e poi hai dei perni con molta più esperienza ma che sono importantissimi per il Bologna. Vedi Danilo in difesa che è un giocatore importante, vedi Palacio in attacco che è un giocatore che dimostra di essere un giocatore ancora molto valido per il nostro campionato quindi è un Bologna mischiato molto bene, manca la punta centrale ma questo è un problema che ormai diciamo in tutti i video in cui parliamo del Bologna e vedremo penso di sì perché se no Mihaljevic potrebbe anche dire di andarsene perché comunque è un giocatore che chiede da almeno due o tre sessioni di mercato. Voto 10 infine al Parma, Parma che vince 2 a 0 con la Roma, Parma che fa una prestazione in linea con le scorse perché comunque il Parma nell'ultima giornata ha dimostrato di saper giocare molto bene, è trascinato da un buon giocatore che è Mihaila, giocatore che è stato rivitalizzato da Versa che ha cercato di metterlo al centro del progetto complice anche gli infortuni di Giorvigno e Caramò, Parma che porta a casa tre punti importantissimi che in questo punto la fanno accorciare sul Torino e sul Cagliari quindi un Parma che ultimamente aveva giocato bene, aveva portato a casa diversi punti anche se ne poteva portare molti di più perché in due volte era in vantaggio sul 2 a 0 e poi stata rimontata sul 2 a 2. Questa vittoria però è importantissima e tiene vivo il sogno del Parma di cercare una salvezza importantissima per quanto ha speso il nuovo presidente. Detto questo vi ricordo di lasciare mi piace al video, di seguire la pagina Instagram ed iscrivervi al canale. Noi ci rivediamo col secondo episodio della nuova serie dove analizzeremo i futuri campioni del nostro calcio italiano. Ciao a tutti! Ciao a tutti!